Sandro, parlaci un po' di te, della tua storia e del perché vi trovate a Montecitorio. Si salve, buongiorno sono Sandro. Allora noi ci troviamo da Montecitorio dall'anno scorso, il 23 luglio. Stiamo lottando per il diritto di scelta di cura. Quello che noi stiamo chiedendo è di poterci curare come noi meglio pensiamo per il diritto di scelta di cura. Noi siamo quattro figli con la distrofia muscolare, tipo faccio scapolo merale, mia sorella è a casa allo stadio terminale e lei mi dice io sto morendo, voglio provare. Oggi c'è il metodo stamina e dico per questo non lo posso provare, non ho nulla da perdere. Il governo ce lo sta impedendo, il governo dice in sintesi morite perché stamina non fa nulla e questa è una cosa grave perché noi non l'accettiamo. Noi siamo stati sempre dei cittadini modelli, abbiamo pagato le tasse, abbiamo sempre rispettato la legge e pretendiamo che la legge abbia anche rispetto di noi. Io voglio precisare, io una volta stavo bene fino a 12 anni, anzi anche a 14 anni, correvo, avevo una massa muscolare, ho guidato moto, ho avuto tutte, sono stato bene. Oggi sono qua che sto lottando per la vita perché tante persone pensano, diciamo vabbè a me non tocca, invece è sbagliato questo qua, tutti quanti stiamo parlando di vita, stiamo parlando di cure. La vostra tenda ha il numero 117A quindi è provvista di un numero civico, la scelta è stata vostra? Sì, il civico 117A è nato, quando noi siamo arrivati la tenda non è arrivata subito, la tenda è arrivata dopo due mesi perché noi dormivamo a terra ed eravamo alloggiati in un angolo dove c'era il civico 117. Poi è nato che è arrivata la tenda e allora giocando abbiamo detto vabbè facciamo civico 117A e da lì è nato il civico di 117A dove arriva anche la posta, arrivano lettere da tutti i lati del mondo e funziona come un civico. Se digiti piazza Montecitorio esce la tenda Fratelli Biviano. Perfetto, quindi siete raggiungibili da tutte le persone che comunque vogliono esprimervi solidarietà oppure venirvi a trovare? Sì, chiunque vuole venirci a trovare, dare solidarietà, quella è la tenda degli italiani. Dico chiunque può venire e se per avere più informazioni basta digitare su facebook civico 117A Fratelli Biviano e lì ci sono tutte le informazioni, ci sono i video dei bambini, prima infusione dopo infusione, c'è tutta la storia nostra, c'è tutto sul civico 117A. Il rapporto tra il civico 117A, quindi tra gli occupanti della tenda e i politici che comunque vi sfilano davanti tutti i giorni, qual è? È una cosa molto triste, i politici passano nella massima indifferenza, quando ti avvicini scappano, è una cosa vergognosa. Questo fa capire il governo italiano che il governo sinceramente non ne abbiamo e lo dimostriamo e noi siamo l'emblema lì davanti, due ragazzi disabili lasciati completamente all'abbandono delle istituzioni. Noi non abbiamo fisioterapia, non ci sono medici, completamente lasciati in abbandono lì, grazie alla solidarietà di tante persone, chi ci porta il mangiare, chi ci dà qualcosina di soldi per affrontare le spese, ma a livello governativo di istituzioni siamo assolutamente dimenticati. Lì davanti il Montecitorio sta passando il mondo, invece i politici è una cosa normale, è un'indifferenza, nessuno si vuole prendere la sua responsabilità, quando vai per parlare scappano, non vogliono affrontare il discorso e questo è grave, è gravissimo, perché questo fa capire che siamo stati abbandonati. L'unica che ci sta appoggiando è la senatrice Bonfrisco e Claudio Morganti, poi del resto tutti scappano. Il ministro della salute Lorenzin dice che non è possibile, vi diamo altre alternative, penseremo noi a farvi curare, però non ci sono né alternative né niente, noi non abbiamo neanche una mezza pillola che ci rallentano queste malattie, ci stanno dimorando vivi e loro non stanno facendo niente. Oggi la scienza doveva fare un passo avanti e vedere, controllare quei bambini a Brescia e dire vediamo cosa sta succedendo, andiamo a controllare, visitare i pazienti, andiamo a parlare con le famiglie, invece la scienza ha fatto un passo indietro e quindi mi fa capire che non abbiamo speranza, perché se la scienza si comporta in questa maniera non si sta comportando con coscienza, perché loro dovevano dare spiegazione a noi per quale motivo, se questi bambini dal 2011 fino al 2014 fino a oggi hanno avuto dei miglioramenti e a me non me lo possono negare, perché io ho visto il piccolo Federico, ho visto tanti altri bambini che ne hanno soffruito, li ho visti migliorare tantissimo, Federico ha messo 8 kg di massa muscolare, respirava autonomamente e stava all'impiede sulla mia carrozzina, che prima non lo poteva fare. Quindi io faccio un appello soprattutto più alla politica, alla scienza, che è un comportamento sbagliato ai nostri confronti perché ci dovevano dare delle spiegazioni, dovevano controllare, rispetto di noi malati che portiamo una croce, perché c'è da valutare, perché effetti collaterali dal 2011 fino ad oggi nessun bambino ha portato un effetto collaterale. Anche il Ministero della Salute, l'articolo 173, dichiara che stamina è per qualsiasi uso terapeutico e non è nociva. Un'altra cosa che io non concepisco e non arrivo ad accettare, oggi il governo ci sbatte in un tribunale un giudice del lavoro deve decidere se vivere o morire, che già è un incarico, io penso, per un giudice abbastanza pesante dare un compito del genere. Vediamo che io mi voglio assumere, noi ci assumiamo la nostra responsabilità, ci autotassiamo, come il governo mi permette di andare al tabacchino, comprarmi un pacco di sigarette e mi scrive nel pacco, il fumo uccide, però mi permette di uccidere a me e chi c'è a fianco a me, mi permette di uccidermi con l'alcol, mi permette di uccidermi col gioco d'azzardo, allora io dico al governo, visto che io ho una malattia mortale e non c'è alternativa, mi assumo la responsabilità. Se non lo volete fare per me, perché io sono respiro autonomamente e ancora sono qua e sto dialogando, mettetemi da parte, ma tutti i bambini in fin di vita, ho il caso come mia sorella che dice sto morendo, ho paura, non voglio morire, voglio provare, è giusto e sacrosanto diritto che loro hanno diritto a provare prima di morire, perché io non accetterò mai, assolutamente mi ribellerò, che se mia sorella dovesse morire non ha avuto neanche l'opportunità di dire almeno ci ho provato. Questa è una cosa come la mamma del piccolo Raul che continua a venire per un anno in tenda, lo sta lottando e sta sempre con quel rimosso di coscienza e piange sempre, dice oggi c'era un'alternativa e non sono riuscita a dargli una speranza al mio figlio. È vergognoso, un comportamento veramente vile dai politici e dai scienziati. I professori quando dicono voi state difendendo un ciallatano, no io non l'accetto, perché quei professori prima devono andare a Brescia, devono spiegare perché questi bambini stanno migliorando, devono valutare le cartelle cliniche e poi possono parlare, ma solo dopo, no adesso. Grazie.